Non voglio far del male nessuno, piuttosto rivendicare integrità, trasparenza e assoluta convenienza per la comunità del progetto di trasferire il municipio di Lecco in via Marco D'Oggiono, scelta sulla quale c'era stata ampia condivisione. Così Corrado Valsecchi, assessore dei lavori pubblici nella seconda giunta a Brivio e oggi consigliere di minoranza della Civica Appello per Lecco. Dopo averlo annunciato in consiglio, ha presentato alla procura della Repubblica di Lecco una memoria in autotutela rispetto alla scelta della giunta a Gattinoni di rivedere i piani e aprire una procedura per individuare una diversa sede per il municipio di Lecco. L'atto, spiega Valsecchi, è a seguito di alcune affermazioni che ritengo infelici da parte dell'attuale amministrazione sull'operazione pubblico su pubblico voluta dall'amministrazione Brivio a partire dal 2017, finanziata senza alcun mutuo indebitamento. La memoria redige una breve con una storia della vicenda, acquisto, progettazione, affidata al Politecnico, nonché ristrutturazione di via Marco D'Ogiono in due lotti. Evidenzia il percorso dell'attuale manifestazione di interesse avvenuta successivamente a interventi pubblici che confermano un'operazione in corso da parte di esponenti della stessa amministrazione, segretario di partito, di maggioranza e di un parlamentare. Con questo atto offro al procuratore una chiave di lettura, se riterrà di voler indagare sulla vicenda e sulla manifestazione di interesse. Una volontà, conclude Valsecchi, ma è espressa prima dall'attuale maggioranza, né per quanto riguarda il programma elettorale, né tantomeno nel documento unico di programmazione e nelle linee di mandato recentemente approvate. Nessuna sfida o rivalsa, conclude. Ciò che muove me e il mio gruppo spiega, è solo la volontà di fare il bene della comunità e dei contribuenti. Grazie.